E' proprio il caso di dire che la paura fa novanta anche a Brindisi e il riferimento alle vicende amministrative comunali, dove nel centro-destra certamente non sono mancate fino ad oggi pericolose fibrillazioni. Il risultato venuto fuori dalle urne in Sardegna però rappresenta una conferma del fatto che crisi e plateali diversità di vedute alla fine possono anche inclinare il rapporto di fiducia con gli elettori. Allo stato attuale infatti è piombato il silenzio sul Palazzo di Città dopo l'ultima riunione convocata nei giorni scorsi per l'elezione del Presidente della Commissione Consigliare allo Sport. Fratelli Italia avrebbe voluto che si eleggesse il suo consigliere comunale Jacopo Sticchi ma in mancanza di una intesa ha preferito disattare i lavori della stessa Commissione e quindi alla fine è stata eletta Presidente la consigliera Martucci di Forza Italia con i voti anche delle opposizioni. In realtà Fratelli Italia lavora da mesi affinché si giunga un azzeramento delle commissioni consigliari in maniera tale da poter far saltare la Presidenza di Roberto Quarta che all'interno del partito di Giorgia Meloni rappresenta un elemento di forte dissenso rispetto alla linea espressa dei vertici cittadini e provinciali. Va aggiunto anche che dei contrasti all'interno della maggioranza ne ha risentito un paio di volte anche il Consiglio Comunale, una volta per l'assenza dei consiglieri Forza Italia e in un'altra occasione per quella del gruppo di Fratelli d'Italia. Contrariamente a quanto qualcuno aveva auspicato però è come se nulla fosse accaduto, non c'è stato alcun chiarimento pur nella consapevolezza che con la politica della polvere nascosta sotto il tappeto non si fa molta strada. Un motivo in più per verificare con attenzione quello che accadrà nei prossimi giorni.